Al via la consegna dei lavori da 2,7 milioni di euro per l'impianto in rigua all'Aquila. Il vice presidente della giunta e assessore all'agricoltura Emanuele Imprudenti ha tenuto una conferenza stampa per presentare lavori per l'efficientamento dell'impianto in rigua al servizio del comprensario est del comune dell'Aquila e nel vicino comune di Ocre. Un intervento molto atteso, finanziato con risorse del programma di sviluppo rurale, intervento importante che consentirà un maggiore efficientamento ma anche un grande risparmio idrico ed energetico. L'intervento è moderno e innovativo, rivoluzionerà il sistema. Sarà tutto telecontrollato e digitale. Saranno sostituiti ben 6.500 metri di tubatura. Sono stati appaltati e consegnati i lavori, saranno lavori sul tratto del consorzio di bonifica nel comune dell'Aquila, nella frazione di Bagno e tutta quella parte lì e una parte del comune di Ocre. Saranno lavori che metteranno sostanzialmente un sistema completamente innovativo che è anche quello che c'è, che è partito e che stanno iniziando i lavori nella zona di Ofena e di tutta la piana di quella zona insieme a Capestrano e che sostanzialmente prevede dei misuratori di vario livello sulle condotte principali, sugli adduttori, su tutta la parte di, diciamo, terminale. Servirà per ridurre il consumo dell'acqua, per ridurre i costi energetici, per ridurre le perdere, per ottimizzare quella che è la risorsa idrica, cioè progetti innovativi che serviranno proprio a dare il salto di qualità quello che sarà la gestione complessiva del sistema. Presenti anche il commissario regionale del consorzio di bonifica interno, Adelina Pietro Leonardo, gli assessori del comune dell'Aquila, Fabrizio Tarante e Laura Cucchiarella. Per il consorzio si tratta di un intervento molto importante che si aggiunge ad altri fatti. Questi sono lavori importantissimi per il consorzio, perché tenga conto che il consorzio comunque non è mai stato il tutto, diciamo, è un efficientamento a tutte quelle che sono le strutture del consorzio che non è stato mai effettuato. Noi abbiamo fatto già un intervento di 9 milioni di euro, quindi per efficientare tutta la zona di Capestrano. Con quest'altro progetto dove andiamo a sostituire questi tubi e quindi a mettere dei misuratori che vanno a far sì che abbiamo un risparmio di risorsa idrica che efficientano tutto il sistema idrico del territorio. Ed è un grande risultato per il consorzio.